bella a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti al quarto episodio della serie ms con il napoli oggi andiamo a giocare ragazzi il sassuolo il milan che c'è lo scontro del primo posto ragazzi la fiorentina la roma e il bologna grazie ora guarda il video ciao 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 � Adesso ho ancora una tascosta di quello quale è? E poi ragazzi io ho vinto Io ho vinto Ragazzi Ragazzi ci vediamo Ragazzi Con questa serie ragazzi Il dopodomani ragazzi Cioè dopo la Dopo la fine di Coppa Italia E Italia Nigeria Ciao ragazzi Grazie Grazie Grazie